Vediamo le riparazioni con la tecnica induzione. Questa è un'apparecchiatura che costa all'incirca 1.400 euro, regolabile nel tempo in cui verrà attivata l'induzione. Adesso come tempistica è impostato mezzo secondo. Quindi la lampada all'attrezzo va a prendere il bollo per mezzo secondo, induisce la lamiera e cerca di tirare su il bollo. Cosa importante è non ripetere l'operazione in sequenza più di tre volte perché l'induzione scalda e si rischia di bruciare la vernice. Quindi due volte l'abbiamo fatto. Adesso lasciamo raffreddare. Andiamo a vedere questo bollo molto molto più largo e molto più profondo. Vediamo che come la lamiera si raffredda la cresta pian piano si va a spianare. e andiamo a rifinire. Ovviamente la tecnica dell'induzione conviene utilizzarla su 3, 4, 5 bollini. Se pensate di fare una macchina completa con questa tecnica probabilmente se la rifinitura non è fatta correttamente al termine della lavorazione vedrete tutta la lamiera a onde. Vedete? Si creano comunque delle creste che poi vanno a posto quando la lamiera si raffredda. Quelle che non vanno a posto si ribattono però comunque questa tecnica crea crea delle creste che con le leve non si vanno a creare. E' utile utilizzare questa tecnica sui bolli molto larghi per indurire la lamiera che diversamente con le leve tornerebbe a scendere. Quindi il bollo molto ampio con le leve rimarrebbe sempre. il bollo va lasciato molto ampio quindi non a V ma molto ampio come come tipologia di bollo per essere successivamente tirato facilmente con l'induzione. la lavorazione ovviamente si termina con le leve quindi l'induzione non va a sostituire le leve o le ventose ma è un'attrezzatura che aiuta dove con le leve o con le ventose non si riesce a eseguire la riparazione. In questi casi si sarebbe comunque eseguita con leve ventose però per far vedere come funziona la tecnica è stata comunque eseguita anche su questi bolli. Oggi volevo farvi vedere un'apparecchiatura che replica quello che è il T hotbox che ho fatto vedere nei video precedenti. Questa è una macchinetta a induzione simile al T hotbox. Come funziona? adesso non ve la collego c'è qua l'apparecchiatura induzione che si passa sul bollo e va a tirare su bolli lievemente incisi quindi non bolli marcati ma bolli dalla curvatura leggera. Questo è un utilizzo guardate i video precedenti serve anche per indurire la lamiera quindi per lavorare i bolli spolmonati. ha la regolazione del tempo di funzionamento dell'induzione e la regolazione della percentuale di intensità della forza di induzione. Quindi questa è una macchinetta vedete quella di marca svizzera nei video precedenti in funzionamento identico il costo di questa macchina è all'incirca un quinto di quella svizzera. È arrivata ieri un altro tipo di macchinetta e facciamo l'unboxing per la prima volta davanti a voi. questa è una macchinetta che sostituisce in parte le calde che si fanno in carrozzeria col vantaggio di non bruciare la vernice superficiale. Ovviamente la vernice sottostante ad esempio dei cofani bisogna seppiarla. Questa è l'altra macchinetta quindi la prima che abbiamo visto lavora sopra quindi sulla vernice questa lavora sotto la vernice quindi sotto il tetto sotto il cofano sotto le superfici piane. cavo di collegamento ovviamente la la massa le bacchette che si inseriscono allora questo è un video che sto facendo per la prima volta ho aperto devo testare magari vedremo nei prossimi video come come si utilizza la macchinetta questo è un semplice unboxing si mettono le bacchette qua all'interno e praticamente queste bacchette vanno a lavorare la lamiera quindi il bollo da sotto quindi sotto si secchia e il il bollo viene lavorato regolando il voltaggio viene lavorato millimetricamente quindi come se si utilizzasse una leva se video di questo tipo vi interessano fatemi sapere se volete precisazioni se volete acquistare questi due macchinari contattatemi nei link che vedete sotto il video allora la macchinetta viene fornita con questi due accessori questo è un accessorio magnetico e questa punta invece serve per ridurre il bollo adesso qua non so se si vede queste sono le istruzioni praticamente massa e riduzione del bollino dal basso verso verso l'alto come se fosse una leva le istruzioni dicono non più di tre minuti per evitare di scaldare troppo la vernice superficiale la macchina due regolazioni l'accendiamo il power cioè potenza e voltaggio la potenza ovviamente si può incrementare e select voltaggio si incrementa fino ad arrivare a 12 ovviamente la lavorazione ottimale è quella dove questa punta non non fa scintille quindi piano piano va a lavorare il va a lavorare il bollo e dimostrazioni pratiche nei prossimi video fatemi sapere se video di questo tipo vi possono interessare ci vediamo nei prossimi video grazie grazie